1965 siamo alla vigilia della di un anniversario importante per la vita di padri pio la sua vestizione che avverrà il 22 gennaio del 1903 a morcone una giornata importante questa come la trascorse a san giovanni rotondo ma tantissimi anni dopo in particolar modo ce la racconta la cronistoria del convento il 21 gennaio del 1965 nella cella numero 1 prima di addormentarsi ore 18 e 30 padre pio nel ricevere la benedizione dal padre guardiano ovvero padre carmeno da san giovanni ingaldo e gli auguri infatti per la vestizione di padre pio con la buona notte da parte dei confratelli ha chiesto a tutti una preghiera l'aiuto nel ringraziare il signore del grande dono della vocazione religiosa nel chiedere perdono per la sua grande ingratitudine e in corrispondenza alle grazie del signore e poche i presenti tutti i suoi confratelli cercavano di confortarlo non hanno molto peso queste parole lui si commosse fortemente e pianse e ha voluto far pubblica una confessione che un frate del convento nella cronistoria subito ha raccontato e ha scritto fratelli miei l'ho fatta grossa l'ho fatta molto grossa davvero nacque il 25 maggio 1887 alle 18 e 15 di sera ebbi la grazia di ricevere il battesimo dopo 14 ore e cioè alle ore 8 del giorno successivo 26 maggio fino al giorno della mia vestizione religiosa 22 gennaio 1903 per 16 anni non ho mai ringraziato il signore del dono del battesimo e della grazia ricevuta così presto dopo le 14 ore l'ho fatta grossa l'ho fatta veramente grossa e continuava a piangere continuava a piangere indirotto tra il silenzio la confusione l'ammirazione l'edificazione anche dei confratelli che erano presenti finché calmatosi rasserenatosi si addormentò placidamente